E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! Cosa fa di un pilota un campione? Determinazione Velocità Coraggio Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo Questa è la tua sfida Questo è WRC 3 E' amici di YouTube, bentornati qui con un nuovo episodio di WRC World Rally Championship con Road to Glory, modalità Road to Glory, che appena quando termineremo la Road to Glory passeremo sul WRC Experience. Faremo il campionato di WRC, faremo anche qualche prova singola, qualche rally singolo, tanto per provare il gioco e poi termineremo il campionato. Ok, torniamo su Road to Glory, ok. Allora, su Road to Glory, facciamo intanto il caricamento del gioco, dei miei settaggi, dei miei salvataggi. Eccolo qui. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, avevo visto la scorsa volta che toccava fare queste prove qui, lo Specials, ah no, questo l'abbiamo fatto. Questo è stato sconfitto, vediamo eh. Fatto, fatto, fatto. Poi dovrò recuperare qualche stella, come vedete qui, che mi mancano. Allora, S3. Eccola qui, il Gate Contest. Andremo a fare in Portogallo. Oggi faremo un po' di queste prove qui e poi passeremo ai livelli successivi. Ok, amici, buona visione a tutti quanti. Ci vediamo poi, ci sentiamo poi, come al sempre, alla fine del video. Ciao, a dopo. I canzoni. I cancelli validi appariranno all'ultimo secondo, e tu avrai solo un istante per decidere dove passare. Il nostro corso gratuito è un'altra parte, per la visione di un'altra parte, e il nostro corso gratuito è un'altra parte, e il nostro corso gratuito è un'altra parte. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e salto. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. 60. 40. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. sinistra 5. esci. a tutti. a tutti. e 40. in sinistra 3. sinistra 5. sinistra 5. sinistra 5. in tornante destra. poi sinistra 4. in destra 4. e tornante sinistra. 60. 60. destra 4. diventa sinistra 5. sudosso. attraverso cancello. e destra 5. in sinistra 2. 60. destra 4. lunga. diventa sinistra 5. e salto. 200. salto. sinistra 3. e destra 2. chiude. sinistra 2. coppa. poi salto. in destra 3. e sinistra 2. traguardo. i salto. detra 4. 3. set sail. fox1. comach1. 1. iasesp3. in Grazie a tutti. 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 Mamma mia, io sto appena a 143 stelle. Vediamo un po' quello che succederà. Ok, amici di YouTube, vi ricordo sempre di mettere un bel like al video per supportare questo piccolo canale e di condividere il video. Grazie e arrivederci al prossimo video di VRC3.